che hai fatto che è no guarda che nigel scappi no no prendi che adesso ti assumi le tue responsabilità chi è stato a fare quella cosa lì chi l'ha fatto chi chi è stato cioè guarda claudia almeno fai una canse sci massa guardi roshi e guarda guarda non ha neanche prenditi le tue responsabilità e adesso tanto non ci riesce a saltare sul divano gupta perché hai distrutto il mio cuscino gupta fa finta di niente guarda che non è stato chandra chi è stato fammi vedere la faccia della vergogna io non la vedo la faccia della vergogna io non la vedo la faccia della vergogna resta niente sono svergognato